Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a margine di un evento legato allo sponsor Volvo ai microfoni di TMW Radio commentando l'introduzione del VAR nel calcio italiano. Va assolutamente portato avanti. Si sono visti dei miglioramenti, e si sta andando verso questa tecnologia in qualsiasi campo. Ha dato già i suoi evidenti frutti e non capisco quelli che vogliono restare dietro perché evidentemente hanno qualche vantaggio.